Sola contro la mafia e tratto da una storia vera. Maria, donna bambina, si consegna inconsapevolmente nelle mani di un boss della mafia pugliese. E la trama dello spettacolo è andato in scena nell'ambito del Red In Book, il salone del libro educativo in corso a Bari. Francesco Rossi. Una storia vera, difficile, a tratti persino drammatica. Quella di una donna costretta sotto protezione e con altra identità a peregrinare con suo figlio per la penisola. Costretta a sperimentare quanto crudele sia la prigionia legalizzata dei testimoni di giustizia e l'insensibilità delle istituzioni. E la storia di Maria, della sua forza e del suo coraggio, è una storia iniziata nel nord della Puglia a metà degli anni Ottanta e non ancora terminata. Ora è diventata anche la trama di una rappresentazione scenica, sola contro la mafia, lo spettacolo teatrale con Arianna Gambaccini per l'adattamento e la regia di Vito Dingeo, tratta dal libro di Francesco Minervini per le edizioni La Meridiana, produzione Teatre Hermitage, andata in scena sabato nella Sala San Giuseppe dell'Istituto Salesiani Redentore di Bari. L'appuntamento rientra nel Reading Book, salone del libro educativo, in corso a Bari nell'ambito di Reading Fest, la festa di comunità per Maria Ausiliatrice. Maria, la protagonista di questa vicenda, è una donna bambina che si consegna inconsapevolmente nelle mani di un boss della mafia pugliese che ne fa una sua proprietà e la usa per compiere operazioni e traffici illeciti. La sua coscienza, narcotizzata da un amore malato, si risveglia solo dinanzi alla vita che si rinnova nel suo grembo. La gravidanza, custodita e difesa con le unghie, irrompe come un bagliore nel buio della sua martoriata esistenza per diventare l'ama con cui tranciare i fili della crudele ragnatela che la avvolge. Con la fuga e la decisione di farsi testimone contribuirà a sgominare uno dei più efferati clan della cosiddetta quarta mafia, ma a Maria non sarà restituita la libertà.